Nasce dalla collaborazione tra comuni, perché sono quattro le amministrazioni, Talmassons, Bertiolo, Castions e Gonars, l'organizzazione dell'intensa due giorni di sabato 25 e domenica 26 settembre, tradotto la festa delle risorgive. Proprio la tutela della flora e della fauna è uno degli obiettivi del progetto di rilancio dell'area e la conferma arriva dal deciso incremento, ad esempio, degli accessi di visitatori al mulino Braida, perché la valorizzazione non può che partire dalla conoscenza. Pur con tutte le precauzioni richieste dall'emergenza sanitaria, dunque con il consueto obbligo di Green Pass nelle aree coperte e il libero accesso a quelle esterne, i due giorni di festa consentiranno di soddisfare diversi tipi di curiosità, quelle dei bambini, ad esempio, con una lettura a laboratorio e quella degli appassionati di ambiente con la conferenza del naturalista Glauco Vicario sullo studio della flora e della fauna di quest'area così speciale. La tutela di questo territorio nasce proprio da queste peculiarità, da questi monumenti naturali, che sono queste due piante, ma ce ne sono poi molte altre, che vivono in quest'abitat così particolare dovuto alla risorgenza dell'acqua. Queste due piante sono l'Armeria Lodes e le Rucastrum Palustre. Queste due piante sono sull'orlo dell'estinzione e per cui, negli anni fine, anni 90 e gli anni 2000, la comunità europea ha esortato Regione Comune, ha metterli in atto tutta quell'azione per la tutela. La Regione ha presentato assieme ai comuni un progetto live, sono arrivati diversi milioni d'euro proprio per cercare di tutelare gli habitat dove queste specie vivono, perché se no diventa impossibile, oltre a cercare di anche fare quelle attività di informazione per creare quel tessuto culturale, per dare conoscenza e informazione affinché domani sia più facile poter convincere, tutelare, essere consapevoli della tutela e dell'importanza di tutelare questo territorio.